Buon pomeriggio ragazzi, facciamo un riassunto come dice il titolo del video di Bologna-Sassuolo dalla finale al torneo Sardegna ATP di tennis maschile partiamo dal calcio Bologna-Sassuolo anticipo spezzatino spettacolare finito con la vittoria del Sassuolo per 4-3 dopo che il Bologna è stato in vantaggio anche per 3-1 invece il Bologna è costretto alla zona bassa della classifica ancora con 3 punti mentre il Sassuolo è secondo con 10 punti e sentivo la radio terza gara di fila dove ha segnato 4 gol per il tennis torneo ATP di Sardegna 2020 il nostro Cecchinato non ce l'ha fatta contro il numero ATP 74 Gera ha perso 2-7 a 0 7-6, 7-3, 7-5 quindi niente da fare per Cecchinato quindi insomma il derby emiliano lo vince il Sassuolo nel tennis niente vittoria Italia cioè diciamo che è un vice campione Cecchinato diciamo così noi ci vediamo magari vediamo per un prossimo video quindi buon proseguimento a tutti e ciao